Weekend di festa a Ponte d'Era in provincia di Pisa per celebrare i primi 60 anni di un mito su tre ruote. Appenasce nel 48 dall'intuizione di Corradino d'Ascanio, inventore anche della Vespa, per rispondere alle esigenze dei piccoli e medi commercianti. Costava 170.000 lire e aveva una simpatia unica, tanto da entrare da protagonista nella vita mondana di località mito, come la Versilia, Ischia e Capri, paparazzata con a bordo divi di Hollywood in villeggiatura. Dal 52 parte l'evoluzione, crescono cilindrata e portata, si rinnova il design e Ape si conferma versatile compagna di lavoro, prodotto di successo e simbolo del Made in Italy conosciuto nel mondo. L'Ape oggi rappresenta per noi un parco circolante di 2 milioni di pezzi, ne produciamo 200.000 all'anno ancora, anche per i paesi come l'India, ma anche per l'Europa, paesi come la Germania lo utilizzano. Non solo veicolo commerciale, Ape è per i ragazzi alternativa alle due ruote nella versione cross, ideale nelle località di vacanza, nella serie limitata a Calestino e per una coppia di avventurieri è stata fedele compagna di viaggio nei 10.000 chilometri tra Firenze e Dakar. L'Ape si è comportata bene, sta bravissima, anche in situazioni piuttosto difficili, si è comportata bene, forse meglio di noi, perché è una fruttacchino di lei. Grazie a tutti.